Lo scopre e lo sente e magari gli fa incidere un disco. Lui ha sempre desiderato di potersi dedicare totalmente alla composizione, ma ovviamente la vita ha i suoi problemi e quindi fa un altro lavoro. Quanto anni ha? Nel 64, al 26? 66, 76, 86, 24 anni. Sì, sì, va bene. Pronto? Credo che sia pronto il palcoscenico. Perfetto, perfetto. Puntiamo. Perfetto, perfetto. Bella giornata, questa mattina, respiri intensi, gioia, allegria, la notte a pezzi, eccoci al bar, si pensa sempre, che cosa fai? Noi siamo come quelli, quelli della Rai, che filmiamo e ricordiamo che allegra essere, sai? E ci inventiamo tutto identità e ideologia, ma esteri più inediti imbossi, di bugie. Si va in giro, che filmiamo, che filmiamo, che filmiamo, che filmiamo in un po' di più. Si va in giro un po', e col sorriso sai? Si piange solo un po', battendo al guarda-ray. Ci piace ancora il twist, il mambo già c'è c'è, restiamo ancora in jeans, come tanti anni fa. la notte a pezzi, Progetti eccentrici, la fantasia, le discoteche, i look puntuali, sembrano soldati, stevani neri, sono figli, sempre figli, figli di papà. Ballon House fa un casino, un po' lì, un po' qua, sono convinti che il mondo è solo un bello, un play, che per tutti è bello e le canzoni sono ok. Sì, va in giro un po', con lo station 6, ma c'è chi soldi in tasca, l'olio mi estima. Le strade del centro, sono aria riservata, per quelli che la sè, sfilano con la cravata. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Carlo Piras non ce l'ha ancora fatta, vediamo che ce la faccio. Questi tre ragazzi... Sì, sì. 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 Sì.